Sì, grazie Presidente. A nome del Movimento 5 Stelle esprimiamo voto favorevole a questa proposta perché dalla Miata ai monti di San Marcello Pistoiese, dalla Garfagnana alla Lunigiana tutti ci chiedono di avere voce e di non essere lasciati soli. In particolare ci chiedono una netta inversione di tendenza, ci chiedono che i presidi ospedalieri rimangano aperti, ci chiedono che le poste rimangano aperte, ci chiedono scuole laddove non ci sono, dove i nostri alunni sono costretti a fare lezioni nei container e ci chiedono soprattutto di superare la sindrome della città metropolitana, quella sindrome che fa sì che si succhino tutte le poche risorse rimaste a favore di Firenze e a sfavore di tutti i territori periferici, in particolare quelli montani. Quindi voteremo a favore. Grazie. Grazie.